Possiamo assumere questa giornata come emblematica per l'inizio della nostra ripartenza. Ho ricevuto e letto in questi tre mesi centinaia di messaggi di preoccupazione, ma anche di vicinanza, di fiducia, di speranza. Dobbiamo avere piena consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte. La riserita non sarà veloce. La ricostruzione sarà impegnativa per qualche aspetto sofferta. Serviranno coraggio e prudenza, il coraggio di guardare oltre i limiti dell'emergenza pensando al futuro e a quel che deve cambiare, e la prudenza per tenere sotto controllo un possibile ritorno del virus, imparando a conviverci in sicurezza per il tempo che sarà necessario alla scienza per sconfiggerlo definitivamente. Serviranno tempestività e lungimiranza per offrire sostegno e risposte a chi è stato colpito più duramente e per pianificare investimenti e interventi di medio e lungo periodo che permettono di dare prospettive solide alla ripresa del Paese. Abbiamo detto tante volte che noi italiani abbiamo le qualità e la forza d'animo per riuscire a superare anche questa prova, così come abbiamo ricostruito il Paese 70 anni fa. L'abbiamo visto nelle settimane che abbiamo alle spalle. Abbiamo toccato con mano la solidarietà, la generosità, la professionalità, la pazienza, e il rispetto delle regole. Abbiamo riscoperto in tante occasioni, giorno per giorno, doti che a tal uno sembravano nascoste o appannate, come il senso dello Stato e l'altruismo. Abbiamo ritrovato nel momento più difficile il vero volto della Repubblica. Ora sarebbe inaccettabile e imperdonabile disperdere questo patrimonio fatto del sacrificio, del dolore, della speranza e del bisogno di fiducia che c'è nella nostra gente.